E' un po' severo, eh? Come non sei un amico? Sei un fratello. Papà mi ha promesso che mi comprava l'aeroporto? Si, mi ha promesso l'aeroporto. Scrivi, dai. Grazie a tutti, eh! E poi non dicami che tu non ti pensi. Tu mi devi capire se sei un po' severo, eh? Dai, se ne andiamo, su. Facciamo a fare bene le mani. Sai cosa? Qui comando io. Ciao, Papà. Tu non mi dovevi mancare di rispetto. Dio. 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 A. Dio. Ssssssssssss